Come una finestra luminosa integrata nel soffitto, è la luce l'elemento che caratterizza Skydome di Elica. Un grande pannello luminoso full led a 28 watt racchiuso in una cornice in acciaio inox che restituisce luce diffusa e uniforme. Con la funzione dim light è possibile modulare l'intensità della luce e con il tune white si può scegliere la tonalità da un bianco caldo fino ad un colore freddo, ideale durante la preparazione dei cibi. L'installazione della cappa può essere completata con elementi di illuminazione aggiuntivi controllabili direttamente dal telecomando. Tutte le funzioni della cappa sono controllabili attraverso lo Smart Remote Control, pratico radiocomando dal design semplice che offre il massimo comfort di utilizzo. L'aspirazione perimetrale grazie alla tecnologia Comfort Silence garantisce un'elevata captazione dei fumi nel massimo silenzio. Oltre al modello classico da 30 cm che garantisce le massime prestazioni con un livello minimo di rumore, soli 53 dba alla massima velocità, sono disponibili una versione super sottile da 16 cm per i controsoffitti più bassi e una con motore remoto che può essere dislocato in posizioni differenti o esterne all'abitazione. SkyDOM è dotata del sistema brevettato Super Easy Installation che rende le operazioni di installazione facili e veloci. SkyDOM è convertibile in modalità filtrante tramite l'apposito kit accessorio. Disponibili Long Life Filters High Performance, innovativi filtri che garantiscono un'efficienza di filtraggio dell'80% e sono lavabili in lavastoviglie fino a tre anni. SkyDOM, una luce nuova nella tua cucina.